La prevenzione delle malattie attraverso il benessere della mente e del corpo. La medicina cinese riconosce le virtù delle pratiche ancestrali come la fitoterapia e il Baoduanjin, un'arte marziale raccomandata dai medici. Secondo la medicina cinese, i nostri cinque organi principali sono collegati a cinque stati emotivi, quindi quando vogliamo trattare le difficoltà emotive, iniziamo trattando gli organi correlati e viceversa. Leggerezza, radicamento, concentrazione. Nel Baoduanjin ci sono otto movimenti fondamentali. È meglio fare pratica al mattino presto, in un'area aperta e tranquilla. Conosciuto anche come gli otto pezzi di burkato, il suo scopo è quello di rafforzare il nostro corpo e la nostra energia. Questa è la seconda mossa del Baoduanjin. Si dice che sia ottima per la respirazione.